Cari amici vicini e lontani, forteti e bibbiani, proprio tutto vi dobbiamo dire, proprio tutto. Facciamo anche la canzoncina? Ma sì, facciamo anche la canzoncina. C'è solo il sistema immunitario su cui puoi contare, il sistema immunitario è l'unica salvezza. Non guardate il nome commerciale, ma vitamina D3, 25.000 o 50.000 unità nella fattispecie, una volta alla settimana e poi l'esposizione al sole, così lo fissiamo anche alle ossa. Ricordatevi che un uomo dopo i 50 anni inizia a perdere, se non fa attività fisica, mezzo chilo di massa ossea all'anno. Quindi va benissimo la vitamina D, la vitamina D3 nella fattispecie, va benissimo la vitamina K, va benissimo la C, la E, senza esagerare, senza esagerare. La prendete dagli elementi, dagli alimenti, ma anche un po' di integrazione, se sì, come no, soprattutto se sì, è over 50. E ricordatevi soprattutto quello che vi ho cantato con la mia bellissima voce. Il sistema unitario è la nostra salvezza, è la nostra grande risorsa e vedete com'è democratica la natura. Ce l'hanno tutti, ce l'hanno tutti, uomini e donne, bambini. La natura è grande, i guai si hanno quando si va contro la natura. La natura è grande, ci fa dei grandi doni, spetta a noi, puoi cercare di conservarli, di gestirli bene. Il sistema immunitario è stato dato a tutti. Il sistema immunitario non ha prezzo. Il nostro sistema immunitario è una cosa fantastica. Ci pensa a lui, ci pensa a lui. Il nostro dovere, il nostro compito è semplicemente cercare di tenerlo in condizioni buone. Quindi, sapete cosa conviene fare? Magari una volta a settimana. Dosi un po', un po' vere, non come in certi integratori che fanno ridere perché poi la dose è infima. E niente, soltanto questo, soltanto questo piccolo consiglio per oggi. Quindi, cari amici vicini e lontani, forteti e bibbiani, non mi rimane che ricordarvi il mio canale YouTube, Giorgio Riccardin. Iscrivetevi, mi fa piacere, like, fa piacere, mi aiuta. Il mio profilo SharkTube, sempre Giorgio Riccardin, e il mio canale Telegram, perché mi trovate anche su Telegram. Il canale è appunto Giorgio Riccardin. Grazie e alla prossima videopillolina. E ricordatevi, il sistema immunitario è la nostra grande, 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 immensa fortuna. Grazie a tutti.